Ben ritrovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. Allerta maltempo oggi in Toscana fino alle 21, raffiche di vento forte e possibili brevi temporali con grandinati, raccomandata la massima prudenza. In Fipilin uscita la Strassigna provenendo da Firenze, coda per viabilità esterna che non riceve. Tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina coda per traffico intenso in direzione a Livorno. In A11 troviamo traffico rallentato in viaggio per Pisa tra Prato Ovest e Pistoia. Coda a tratti dovuti al traffico intenso in A1 in direzione Bologna tra Chiusi e Firenze Sud e tra Firenze Scandici e il BV A1 variante Baccheraia. In A1 variante coda a tratti tra Aglio e Firenzuola in direzione Bologna. Muoversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!